Ti abbiamo aspettato tanto, però ne vale la pena. Passaci questa battuta. Grazie. Sì, è stata una liberazione per me dopo tutti questi mesi difficili. Però l'importante è il gruppo. Il gruppo oggi ha dimostrato che ha carattere, che ha cuore. L'abbiamo messo tutto in campo. I nostri tifosi sono sempre fantastici, che ci danno una mano, ci spingono. Quindi questa vittoria è dedicata a loro. Io non ho mai smesso di credere in testa del mister Mandrollini, perché ha detto prima di parlare di mercato voglio recuperare i miei calciatori. La testimonianza ce l'abbiamo davanti. Sei tornato, due ottime prestazioni. Oggi è un sigillo importante. Ringrazio il mister che mi dà questa fiducia. Ringrazio la società che mi sono sempre stati vicini. Cercherò sempre di ripagare questa fiducia, dando tutto a me stesso in campo. E andiamo avanti così. È contento di tutti, sembrava Luca Toni, che a fine partita ti ha fatto anche i complimenti. Perché a gol italiani ha detto, però per il tuo rientro ti ha fatto tanti complimenti. Luca è come un fratello maggiore per noi giovani. Lo ringrazio dalle belle parole che ha speso nei miei confronti. Lui ci spinge sempre a dare il meglio in allenamento. È un punto di riferimento per noi. È un grande campione. Quello che ci dice lo ascoltiamo. A di là di tutto oggi si è rivisto un Verona, però convinto. Più convinto delle ultime partite dove sapeva di fare risultato. Come hai detto tu, col gruppo, la voglia. Cosa è cambiato secondo te? Cosa si percepiva in campo? Non penso che sia cambiato molto. Noi ogni partita ci proviamo a dare tutto. Oggi abbiamo proprio messo il cuore in questa partita. Il nostro pubblico ci ha spinto a dare tutto. Come sempre lo ringraziamo, che sono sempre fantastici. Oggi finalmente abbiamo fatto una gran bella prestazione. Tante note positive. Saviola, che si è fatto trovare sempre libro. Ma anche Valotti, che è entrato dopo, che hai salutato prima. Ha fatto un gran gol. Insomma, tante belle note positive oggi. Sì, Saviola è un grande giocatore. È facile giocare con lui. Lo riesci sempre a trovare. C'è una tranquillità. Mattia si merita tutto questo oggi. È un grande professionista. Si allena sempre al massimo. E quindi si merita questa giornata. Come stai tu invece? Hai fatto 50 minuti a Empoli, 60 minuti oggi. Stai rientrando al 100%. Sì, sto cercando piano piano di far crescere la mia condizione fisica. Il mister mi sta dando fiducia. Quindi lo ringrazio. E nulla. Cercherò, come ho detto prima, di dare sempre me stesso. Poi quello che il mister deciderà lo prenderemo tranquillamente. C'è una dedica speciale per questo gol? A tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicina, mi aiuta in ogni momento e quindi va loro. E adesso andiamo a divertirci a Torino? Andiamo a divertirci, speriamo. Giochiamo contro i Campioni d'Italia, una grande squadra e cercheremo come oggi di dare tutto noi stessi. Grazie. 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 Grazie.